buongiorno avete cambiato tutti l'orario alle sveglia stamattina ho visto che siete venuti tutti un po' a scaglioni avvisami quando ci siamo ci siamo buongiorno a tutti buona domenica eh oggi ci sono io qui il nostro pastore è ancora a casa nella sua stanzetta dove sta pregando sta meditando sta ricevendo eh vi dà tanti cari saluti vi ringrazia per le preghiere eh vi chiede ancora di continuare a pregare per lui si sta piano piano stanno passando un po' tutti i sintomi la febbre non ce l'ha più è rimasta un po' di tosse ma mercoledì aspettiamo il tampone definitivo per vedere per constatare la sua negatività io grazie a Dio l'ho fatto ieri sono negativa per questo posso stare qui con voi questa mattina questa mattina abbiamo un ospite speciale sappiamo che lo spirito santo ma abbiamo anche un caro fratello che è venuto a trovarci eh ti saluta il caro pastore eh ti invito qui per dare un saluto alla chiesa Luciano vieni facciamo un applauso a che pastore la testa e vai è acceso però devi alzare mi saluto tutti anche se non l'avevo avvisato devo venire però c'era nel cuore nel desiderio una cosa cosa che c'era nel cuore nella mente desiderio di venirvi a trovare di salutarvi eh se Dio vorrà anche di far parte diciamo della vostra della vostra delegazione eh spero di conoscervi di conoscervi piano piano uno per uno quindi eh che dire Dio fa tante cose belle eh ci sono anche dei periodi della vita un po' anche di silenzio che uno può attraversare però eh io credo che l'importante è non perdere mai di vista quello che Dio ha fatto in passato nella nostra vita e quello che continuerà ancora a fare perché sappiamo che comunque c'è un piano c'è un progetto nella vita di ciascuno di noi che può anche dire attraversare un periodo un po' un po' così non negativo non buio ma a volte anche di silenzio da parte di Dio e non capire bene dove dove Dio ti sta portando però sappiamo che c'è comunque un piano per ciascuno di noi qualunque esso sia e Dio lo porterà a compimento fino all'attimo quindi vi saluto vi abbraccio tutti e poi alla fine ci saluteremo comunque Luciano per chi non lo sa è uno di quelle tre quattro persone che hanno fondato questa chiesa e quel fratello che quando non c'era nessuno era in ginocchio col pastore a pregare per questa chiesa quando il pastore dice che un giorno che pioveva fortissimo nessuno era disponibile lui e Luciano comunque in casa si sono piegati hanno sono inginocchiati hanno pregato per questa comunità è uno che con noi ha fondato la comunità ti diamo il bentornato e poi avremo modo di parlare allora veniamo al messaggio di questa mattina prima di di condividerlo con voi vorrei fare una preghiera e quindi vi invito a chiudere gli occhi signore Gesù noi ti diamo il benvenuto fra di noi questa mattina padre ti chiedo di aleggiare col tuo santo spirito in mezzo a noi signore che la tua presenza sia tangibile in questo luogo questa mattina signore guidami signore usati di me signore che la mia bocca possa essere uno strumento per la tua parola signore uno strumento nelle mani tue signore per poter parlare a questa comunità di quello di cui tu hai da dirgli signore ti ringrazio signore guidami nel nome di Gesù amen è da tanto che non salgo qua sopra quindi un po' dicono che salire sul pulpito fa un po' effetto dopo tanto tempo vi posso dire che è vero ci mi ci ero abituata però dopo tanto è un po' difficile allora nei giorni scorsi abbiamo visto il pastore che ha predicato sul cuore cosa c'è nel nostro cuore quindi abbiamo visto che dall' abbondanza del cuore parla la bocca abbiamo visto il cuore malvagio ma io oggi voglio parlarvi sempre del cuore ma io sono quella che un po' vi alliscia cioè vi da la cioccolata stamattina quindi sappiamo che tutti sappiamo che il cuore è un muscolo è un muscolo del nostro corpo involontario che vuol dire che è involontario che si muove batte senza che nessuno lo controlli si muove senza che noi riusciamo a controllarlo noi non possiamo nessuno da dire al nostro cuore fermati batti fai questo fai quello ma è da solo che decide se battere o no è un organo fondamentale nel sistema circolatorio se il cuore non batte ce ne andiamo dal nostro creatore ma nel linguaggio corrente il cuore cosa è la sede delle nostre emozioni la sede dell'anima la sede dei nostri affetti del nostro sentimento farò giusto un accenno ai versi più brutti rispetto che riguardano il cuore originariamente infatti ognuno di noi è stato creato con un cuore malvagio ognuno di noi la maggior parte di noi non avendo il signore nel cuore aveva un cuore che pensava a qualsiasi altra cosa fuorché quello che dio pensa di noi leggiamo velocemente ho preso solo tre versi non ne ho presi di più perché ripeto non voglio parlare del cuore scritto minuscolo infatti se vediamo il titolo c'è cuore scritto minuscolo e cuore scritto maiuscolo il cuore scritto minuscolo non mi interessa io voglio parlare del cuore il cuore che dio ci dà il cuore che dio vuole che noi abbiamo e leggiamo genesi 8 21 se spegniamo questa luce michele mi dicono che si legge meglio questa quella accendila però grazie il signore sentì un odore soave e il signore disse in cuor suo io non maledirò più la terra motivo dell'uomo poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto qui vediamo cuore malvagio ma non voglio parlare del cuore malvagio andiamo avanti ci sono solo tre versi che parlano di cuore malvagio il resto sono tutti belli geremia 17 9 il cuore ingannevole più di ogni altra cosa è insanabilmente maligno chi potrà conoscerlo ecclesiaste 9 3 questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole che tutti abbiamo una medessima sorte così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono poi se ne vanno ai morti ognuno di noi è nato con questo cuore tutti tranne se qualcuno è nato in una famiglia già che conosceva il signore ma comunque prima o poi tutti nel nel nostro percorso anche chi nasce in famiglie cristiane si devia ogni tanto quindi ognuno di noi è passato da questa situazione per far sì che il nostro cuore non sia più così ma diventi un cuore come quello secondo i piani di dio è necessaria una trasformazione una rigenerazione ma come ho detto prima noi non la possiamo comandare noi non possiamo entrare nel nostro cuore e decidere di cambiarlo solo dio può farlo solo l'intervento divino è capace di trasformare modificare il nostro cuore ma dio ha solo una richiesta da farci vai proverbi 23 26 figlio mio dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie questo è un chiaro invito da parte del signore a dargli totalmente il nostro cuore dargli totalmente quella che fino ad allora è stata la nostra vita peccaminosa molti cioè il signore ci dice dammi il tuo cuore io sì io te lo voglio dare signore ma non faccio quel passo perché non voglio lasciare la mia vecchia vita i miei vecchi piaceri io non voglio lasciare quello che fino ad allora mi faceva comodo no ma il signore dice dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi vedranno comunque piacere comunque avrai piacere ma nelle cose che io ti darò il signore dice solo dammelo quindi il passo che noi dobbiamo fare è dare il nostro cuore al signore non dobbiamo aver paura di non godere dei benefici che magari io fino a prima di conoscere il signore vivevo una vita sregolata andavo a ballare mi divertivo e non volevo lasciare tutta quella vita ma il signore mi disse dammi il dammi il tuo cuore perché io comunque ti farò godere degli stessi benefici ma nelle mie vie se leggiamo l'altro verso e zecchiele dio vediamo che capace di cambiare il nostro cuore e di darci un cuore nuovo questo è un verso che tutti conosciamo però io questa luce la volevo perché non tanto alluzzo va bene no non accendere vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne quindi come abbiamo detto prima solo lui è capace di darci un cuore nuovo ma cosa significa un cuore cioè ce lo trapianci toglie il cuore ci mette un altro nuovo no lo trasforma se prima magari avevamo un cuore duro un cuore spigoloso come una pietra un cuore tetro buio chiuso un cuore incarcerato dio è capace di prenderlo e trasformarlo tempo fa facciamo uno shekinah nel quale avevamo due pietre una pietra tutta spigolosa l'altra pietra bella tutta liscia levigata e magari e diciamo che quelle due pietre rappresentavano i nostri cuori il nostro cuore prima di conoscere il signore e il nostro cuore dopo dopo l'azione del signore che con la sua che in quel caso erano pietre di acqua di fiume e quindi levigavano il signore capace di levigare i nostri cuori fino a renderlo liscio sensibile alla parola tenero darci un cuore nuovo ma è necessario che ci sia lo spirito santo il signore spanderà il suo spirito senza l'opera dello spirito santo è impossibile per l'uomo seguire le vie del signore è necessario che ci sia la presenza dello spirito santo in noi e cosa dobbiamo fare per far sì che lo spirito santo ci sia ascoltare seguire le sue indicazioni meditare la parola leggere la parola e c'è una preghiera che ho trovato in un salmo sono solo due versi che tutti i giorni dobbiamo avevo fatto così va bene no va bene ormai l'hai messo salmi 51 10 vai mettilo questa preghiera io credo che la dobbiamo fare tutti ogni giorno quando ci alziamo io credo che ognuno di noi debba dire o dio crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito o dio crea in me un cuore puro me lo rimetti crea in me un cuore puro che significa ogni giorno dobbiamo chiedere purificazione al signore ogni giorno dobbiamo chiedere di lavare le nostre vesti ogni giorno dobbiamo chiedere al signore di rinnovare il nostro spirito signore crea in me un cuore puro tutti pecchiamo nessuno di noi è santo ognuno di noi anche se nel piccolo pecca tutti abbiamo questa caratteristica quindi è necessario che ogni giorno signore rinnova in me il tuo spirito dammi un cuore puro signore purificami signore leggiamo il verso 11 e non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito ricordiamo che ci sono alcune storie nella bibbia nelle quali c'erano dei personaggi che erano convinti di avere la presenza dello spirito santo ma così non era noi lo stesso ricordiamo sansone un esempio che mi viene adesso saul quindi ogni giorno dobbiamo chiedere al signore di rinnovarci di purificarci e di non toglierci lo spirito santo perché sappiamo o c'è lo spirito santo o c'è qualche altro spirito quindi se non abbiamo la presenza dello spirito santo in noi dobbiamo chiedere al signore ogni giorno perché ogni giorno è necessario avere la sua presenza per poter servirlo per ascoltarlo per operare nelle sue vie se ogni giorno è importante per cui ogni giorno purificarci signore lava le nostre vesti ogni giorno ogni mattina appena mettiamo i piedi a terra signore crea in me un cuore puro rinnova in me uno spirito ben saldo è facile cosa significa ben saldo beh quando una cosa è ben salda è stabile non si smuove signore oggi crea in me uno spirito saldo ogni attacco ogni cosa che mi arriverà signore io la respingo perché voglio solo la presenza del tuo santo spirito dentro di me e per cui ripeto è molto importante questa preghiera la faceva davide figuriamoci chi siamo noi da non farla no andiamo avanti nico leggiamo seconda corinzi questa è un'altra caratteristica fondamentale per cui il nostro cuore deve essere puro no se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco sono diventate nuove quindi è importante far lavorare Cristo in noi affinché le cose vecchie vadano via e tornino e diventino cose nuove ma c'è una caratteristica c'è una preposizione semplice importantissima in questo verso in se dunque uno è in Cristo dobbiamo essere in Cristo per far sì che le cose vecchie passino che abbiamo cose nuove che il nostro cuore sia puro che il nostro cuore sia cambiato Cristo deve essere dentro di noi e noi dobbiamo essere dentro di lui dobbiamo essere una cosa sola con il signore ma Cristo si deve abitare in noi ma come facciamo a farlo abitare in noi Gesù sì leggiamo la parola meditiamo la parola però non basta il signore sta alla porta e bussa apocalisse treventi ecco io sto alla porta e busso se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me questo è un verso bellissimo no ma quanti di noi stanno ancora con la porta chiusa Gesù gli sta bussando bussa 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 l'abbiamo fatto realmente entrare dentro di noi Gesù Gesù è gentile bussa gentilmente la porta ci invita gentilmente ad aprirla di certo non la butterà giù non la non la sfonderà per poter entrare ma solo noi decidiamo se aprirla o meno solo noi noi siamo i proprietari padroni di quella porta i padroni di casa e quando viene qualcuno a bussare noi decidiamo se aprire o meno quindi aspetta a noi decidere se far entrare o meno Gesù nel nostro cuore per far sì che lui lo possa modellare lo possa purificare lo possa cambiare e una cosa è certa se lui entra non se ne va più se lui entra non se ne va più e tanto lavorerà tanto farà che cambierà il nostro cuore non se ne va più ma dipende da noi se noi apriamo di nuovo la porta e diciamo Gesù vai che voglio quel piacere che mi piaceva piacere che mi piaceva vi voglio il mio vecchio piacere Gesù tu esci facciamo entrare qualcun altro dentro dipende solo da noi altrimenti Gesù si siede sul trono e cena pranza con noi sta sempre con noi in fondo ce l'aveva promesso Gesù che sarebbe stato sempre con noi leggiamo Giovanni io sono veloce non sono come il pastore vai avanti infatti quasi finito ci siamo Giovanni 14 23 ci siamo lo leggo io Gesù gli rispose se uno mi ama osserverà la mia parola e il padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui dimorare uguale stare fissare la propria residenza quindi se noi amiamo Gesù se gli apriamo la porta del nostro cuore lui aveva promesso che dimorerà in noi non se ne andrà se abbiamo amiamo veramente il Signore però dobbiamo cercare di ubbidire a tutti i suoi comandamenti non solo a qualcuno a quello che ci piace tutti ci sono tanti comandamenti scritti nella Bibbia quindi se veramente lo amiamo dobbiamo ubbidire ad ogni ogni comandamento scritto il padre ama coloro che sono disposti ad amare suo figlio senza ma e senza se senza riserve tutto dipende dalla fedeltà che abbiamo verso la sua parola la sua parola è scritto in Colossesi mi pare no non c'è questo verso mi sta venendo adesso la sua parola deve abitare abbondantemente in noi quindi doviziosamente abbondantemente in noi quindi è fondamentale conoscere la parola farla abitare dentro di noi parola uguale Gesù quindi conoscere Gesù conoscere la sua parola e quando abita abbondantemente in noi vuol dire chiamiamo il Signore e lui farà ogni cosa per noi se ma ci siamo Nico col programma è andato ok quindi leggo da qua quindi la sua parola abiti abbondantemente in noi se la sua parola abita abbondantemente in noi ci spiegherà sempre la via da percorrere se prendiamo le nostre Bibbie visto che non abbiamo il programma accendiamo la luce grazie visto che non dobbiamo leggere più salmi 119 105 c'è scritto la tua parola è una lampada al mio piede è una luce sul mio sentiero una lampada cosa fa illumina una lampada fa luce nel buio una lampada messa al nostro piede messa per terra è più facile che illumini per terra di certo una lampada messa su illumina su una giù messa illumina giù quindi se noi facciamo della parola quella lampada messa per terra ai nostri piedi essa ci indicherà la via ci indicherà qual è la via da percorrere permetterà che i nostri piedi non inciampino permetterà che noi non sbagliamo strada permetterà che prendiamo sempre la strada giusta da percorrere illuminerà il percorso che stiamo facendo e ci permetterà soprattutto di non tornare indietro perché se noi camminiamo e vediamo solo buio molte volte boh c'è il buio dove vado torno indietro ma se noi abbiamo la lampada al nostro piede permetterà di andare sempre sempre davanti senza che torniamo indietro quindi fino ad ora però è importante scusate nutrirci ogni giorno della parola di dio conoscerla perfettamente e tutto ciò può essere possibile non possiamo pretendere di dire al signore signore indicami la strada se noi non conosciamo la parola di dio dobbiamo fondare le nostre radici nella parola di dio fondare le nostre radici in gesù e solo allora gesù sarà capace perché se conosciamo la parola saremo capaci di andare dritti per il nostro sentiero quindi abbiamo detto fino ad ora un cuore nuovo e un cuore dove abita gesù e lo riempie del suo amore quindi abbiamo detto che è importante dimorare nella sua parola affinché sia sempre ripieno nico non ci siamo vero ok ho fatto questo studio partendo da un mi è venuto un verso l'altro giorno che leggiamo adesso e da questo è partito questo studio che ho messo alla fine un verso che si trova una piccola parabola che si trova nel nuovo testamento quindi come vediamo anche gesù parla di cuore non solo nell'antico testamento anche gesù parla di cuore ma come se leggiamo matteo 9 17 leggiamo neppure si mette vino nuovo in otri vecchi altrimenti gli otri scoppiano il vino si spande e gli otri si perdono ma si mette il vino nuovo in otri nuovi nuovi e l'uno e gli altri si conservano è importantissima questa parabola è molto significativa l'otre qui cosa rappresenta il nostro cuore il vino lo spirito sa ok il vino lo spirito santo che deve riempire il nostro cuore ma se il nostro cuore è vecchio è un cuore spigoloso è un cuore dove non c'è ancora la presenza del signore cosa succederà se mettiamo lo spirito santo arriverà un momento in cui lo spirito santo sarà talmente forte che non riuscirà più a stare in quel cuore e cosa facciamo noi vai spirito santo vattene è meglio che vengono le cose che mi piacevano molte volte togliamo dal nostro cuore quello che il signore vuole darci per trovare piacere nelle nostre vie vecchie quindi non possiamo mettere del nuovo se nel nostro cuore c'è ancora del vecchio se non abbiamo un cuore rinnovato nuovo ripulito dalle macerie non possiamo riempirlo con lo spirito santo che il vino e l'amore che di conseguenza ne consegue conseguenza ne consegue arriverà il momento che le due cose insieme non potranno stare e abbandoneremo quella che meno ci piace in questo caso sicuramente sarà la presenza dello spirito santo perché come ho detto prima siamo sempre attratti dal passato quindi quando il passato viene a bussare molte volte noi diciamo beh dai vieni era bello quando stavo con te ma così non deve essere quindi è importante fare entrare Gesù nel nostro cuore otre e farlo diventare un cuore nuovo e riempirlo dello spirito santo vino quindi concludendo il pastore vi segue il pastore sta sempre un'ora ancora oggi il signore sta bussando alla porta del nostro cuore il signore bussa e ti dice figlio figlia dammi il tuo cuore voglio il tuo cuore totalmente quindi oggi il signore ci fa solo un invito e se vogliamo risponderle e vogliamo dare il nostro cuore sappiamo che egli saprà prenderlo lavorarlo come adesso mi viene in mente il vasaio che lavora il vaso è quello che dobbiamo permettere a Gesù di fare con i nostri cuori farlo lavorare a sua immagine come lui vuole lavorarlo secondo la sua volontà e lo renderà pieno d'amore puro buono onesto pieno di lui e della sua parola però c'è una cosa fondamentale lasciare le redini quando noi abbiamo le redini decidiamo noi dove andare non permettiamo allo spirito santo di andare dove lui vuole quindi dobbiamo lasciare le redini della nostra vita e far decidere a dio quello che ne sarà della nostra vita non dobbiamo più essere noi a decidere e ricordiamo che il cuore si rinnova iniziando dalla nostra mente dobbiamo essere noi a decidere di dire sì voglio rinnovare il mio cuore sì signore entra nel mio cuore e pensiamo come Dio pensa un verso non l'ho messo no 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 dobbiamo essere capaci di poter dire tu lo dici sempre non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me quindi facciamo abitare Cristo in noi come diceva San Paolo mi sa negalati facciamo abitare Cristo in noi e la nostra vita il nostro cuore sarà sempre un cuore puro un cuore non più malvagio e vedremo che la nostra vita guidata dallo spirito santo sarà una vita piena di successi piena della sua volontà e il Signore avrà per noi solo il meglio Dio vi benedica quanto è durato dieci minuti un quarto d'ora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti